Tempi duri per l'artigianato. Una statistica ci dice che negli ultimi dieci anni si sono perse 170.000 aziende, l'11,70% di tutte quante, che sono ad oggi 1.300.000. Il problema sta nell'innovazione tecnologica, la mancata innovazione tecnologica e la difficoltà nel cambio generazionale, per cui consigliamo ulteriori sgravi e crediti ai contribuenti per l'innovazione tecnologica e l'istituzione della bottega a scuola e la qualifica di maestro all'artigiano per favorire il cambio generazionale.